Seconda edizione del Teleton qui al Tennis Club Alghero, siamo qua con uno degli organizzatori Gennaro Monte, direi che è andato tutto benissimo visto che abbiamo migliorato quanto incassato nel 2010 Diciamo che è stato un grandissimo successo per tutto il tennis ad Alghero I soci hanno risposto veramente alla grande, sono aumentate le iscrizioni, siamo arrivati a 100 iscritti Quindi anche dal punto di vista economico abbiamo superato la cifra dell'anno scorso Quindi abbiamo superato i 3.000 euro L'organizzazione del Tennis Club Alghero si è dimostrata polifunzionale Siamo passati dal tennis, doppio giallo, alle cene, vendita di gadget, torne di carte, un po' di tutto Diciamo che abbiamo organizzato sia il torneo di Bridge con il circolo della Torres Poi ogni sera organizzavamo una cena, quindi con vari sponsor abbiamo fatto tutte le serate a tema Ed è stato un grande successo perché ogni giorno c'erano almeno 50-60 iscritti Oggi arriviamo alla cena finale con 120 iscritti, quindi un successone Direi quasi più persone alle cene che non a giocare a tennis Diciamo no, 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 diciamo che le persone di meno accendono Oggi che è l'ultima giornata, quindi la giornata speciale, abbiamo superato gli iscritti Quindi non ci resta che dare appuntamento adesso per il Teleton 2012? Beh, adesso ci diamo appuntamento al 2012, sperando di migliorare sempre quello che abbiamo fatto fino ad oggi